E' ancora manifestazione, è ancora scontro, questa volta c'è Torino sullo sfondo perché questa mattina i cordoni della polizia intenuta antisommossa hanno bloccato un corteo universitario pro-Palestina partito da Palazzo Nuovo e diretto al Castello del Valentino. Proprio nella sede universitaria di architettura era in corso la conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli, dove soprattutto erano presenti alcuni esponenti del governo, tra cui i ministri degli esteri italiani, dell'Università Bernini, dell'ambiente Pichetto Fratin, dell'agricoltura Lollobrigida, poi il rettore del Politecnico Corniati, il presidente della regione Piemonte Cirio e il sindaco Lorusso. Il risultato dei violenti scontri, soprattutto in due punti, è di sette polizzotti rimasti contusi durante i tentativi di sfondamento, mentre Cambiare Rotta denuncia il ferimento di due studentesse in ospedale con contusione alla testa. Fuori sionisti dall'università, si leggeva sullo striscione in testa i manifestanti che hanno protestato contro il bando di collaborazione con Israele dell'Università di Torino e contro l'incontro del ministro degli esteri italiani con il suo omologo israeliano. Erano una cinquantina questi manifestanti, principalmente studenti universitari e attivisti del collettivo Cambiare Rotta, ma dalla Digos sono stati anche identificati 30 militanti del centro sociale a Scatasuna e alcuni di loro verranno denunciati. La tensione è salita soprattutto in zona San Salvario, tra via San Pio V e via Saluzzo, dove gli attivisti hanno cercato di forzare per una decina di minuti un cordone di polizia schierato, ma sono stati respinti con gli scudi. Ancora scudi utilizzati per respingere i giovani in corso Cairoli, invece, a qualche centinaia di metri dal castello del Valentino. Il corteo ha provato qui ad aggirare il cordone scendendo verso i murazzi, ma è stato costretto a risalire e di nuovo fermato dagli agenti di polizia. Non solo scudi in queste immagini che ci restituiscono violenza, ma anche lanci di uova contro le forze dell'ordine e alcuni manifesti elettorali sono stati strappati e loghi politici bruciati dai manifestanti. Tutto si è chiuso, almeno per ora, con il ritorno dei ragazzi verso Palazzo Nuovo, dove gli attivisti hanno esortato chi ascoltava a partecipare alla fiaccolata del 24 sere in occasione della festa della liberazione del 25 aprile. Fiaccolata, dove sarà presente anche uno spezzone di centri sociali e dei pro-Palestina. Questo caldo lunedì sembra essere solo l'inizio di una settimana dal sapore acceso.